Nessun nuovo contagio riconducibile al focolaio di Turano e da ieri un solo caso in tutta la Calabria. Scende il numero delle persone positive, quello dei pazienti in isolamento e il numero dei decessi. E questo è il dato che emerge dal bollettino diffuso quotidianamente dal Dipartimento della Salute della Regione Calabria. In Calabria nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo contagio che porta a 1.089 il numero totale dei casi nella nostra Regione. Cresce ancora però il numero dei guariti, 212, con un incremento di 15 nuove persone che hanno sconfitto la malattia. In Calabria inoltre per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi che dall'inizio dell'epidemia sono in tutto 80. Continua inoltre il calo delle persone positive, ad oggi le persone malate nella nostra Regione sono 797 con un decremento di 14 persone in più rispetto al bollettino precedente. Si tratta del miglior dato da quando è scoppiata l'epidemia nella nostra Regione. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, sono in tutto 126, 6 in meno rispetto al dato precedente. 8 di loro sono in terapia intensiva. Trenda di ribasso anche sul numero di persone in isolamento domiciliare, sono in tutto 671 con un decremento di 8 persone rispetto al dato di sabato. Nonostante tutto, in Calabria il numero dei tamponi è maggiore rispetto al dato precedente. Nel bollettino di ieri emerge che sono stati effettuati 894 in più rispetto al dato precedente. In tutto, totale tamponi effettuati 28.900. E sull'andamento della curva dei contagi in Calabria potrebbe incidere il nuovo decreto del Governo. Secondo infatti il Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, dal Governo c'è un via libera ad un nuovo esodo verso il Sud. Un via libera dice che va oltre casi specifici. Il Governo, dice ancora la Santelli, si assuma in pieno la responsabilità di un nuovo esodo verso il Sud e dell'eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne. Le misure di contenimento, prosegue la nota, attuate dalla Regione del Sud, possono essere gravemente compromesse da queste decisioni di autorizzare ritorni in massa da zone ancora con altissimi numeri di contagio. E' la terza volta, dice ancora la Santelli, che questo accade e altre due volte le Regioni sono state lasciate sole nella gestione dei ritorni. Ora il Presidente Conte e il suo Governo si devono assumere la responsabilità piena delle loro scelte e da oggi adottino tutte le precauzioni necessarie affinché questi ritorni avvengano con le dovute precauzioni.